ciao ragazzi e ragazze oggi facciamo una ricettina veloce che questa semplice perché faccio sempre ricette semplici ma buonissima volevo provare a fare i biscotti abbracci abbraccione i biscotti abbracci quelli panna e cioccolato metà chiari e metà neri come dai due bianconeri proviamo a vedere se mi vengono vediamo gli ingredienti un uovo 100 grammi di zucchero 100 grammi di panna da cucina io uso questa qua sempre senza lattosio è 50 grammi di olio di semi 300 grammi di farina 50 grammi di fecola di patate un 2 cucchiai di cacao amaro una bustina di lievito vanigliato e una bustina di vanillina prima di tutto mettiamo l'uovo lo zucchero la panna l'olio e mescoliamo aggiungiamo il lievito alla farina la vanillina aggiungiamo anche la fecola di patate e cominciamo a miscolare con le mani fare un panetto morbido un panetto morbido così eh e in una metà ci mettiamo il cioccolato praticamente così una chiara e una scura facciamo delle striscie tagliamo dei pezzi così e dobbiamo fare tipo una specie di mezzo anello tipo un ferro di cavallo uno chiaro e uno scuro e li mettiamo uno contro l'altro negli angoli tipo una cosa così no ragazzi guardate che figata panna cioccolato panna cioccolato praticamente così eh metà e metà e li mettiamo a 180 gradi per un 10-15 minuti ma sembrano un po' guarda ah scotta adesso li lasciamo raffreddare e li assaggiamo ma qua sono tutti grossi se li volete più piccoli basta fare striscioline più piccole eh gli abbraccioni no se volete un po' grosso anche a me le chiacchiere vengono chiacchieroni gli abbracciabbraccioni io faccio tutti i noni oni 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 non lo so sentiamo com'è è buono è buono è picciottone però è buono invece di due cucchiai poi di cacao ne ho messo uno eh perché sennò veniva troppo asciutto l'impasto sempre grossoni così eh chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram io ve la metto nella story un abbraccione un bacione alla prossima ricetta o blog non si sa che cosa e se volete farne anche voi così gigantoni abbraccioni mandatemi la foto ciao